Oggi l'unica arma che noi abbiamo per sconfiggere il virus è rappresentata dai vaccini. Penso che in questo campo la disinformazione o l'istinto di solleticare posizioni antiscientifiche non paghi se anche una strategia politica sbagliata. L'estensione dell'obbligo di Green Pass risponde all'esigenza di tutelare la salute degli italiani che è un bene primario garantito dalla nostra Costituzione e di mettere in sicurezza una ripresa che si sta facendo faticosamente e che addirittura ci fa intravedere un più 6%, il che vuol dire naturalmente più benessere, più crescita e più posti di lavoro. È chiaro che a tutti piacerebbe vivere una vita normale senza l'obbligo di dover esibire un certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione oppure l'esecuzione di un tampone oppure la guarigione dalla malattia, ma purtroppo viviamo in condizioni eccezionali e dobbiamo ancora fare i conti con la pandemia, il virus non è scomparso e quindi l'alternativa al Green Pass non è la libertà, ma il rischio di nuove chiusure, il rischio naturalmente di un allargamento del contagio con tutto quello che questo significa per la salute dei cittadini e io penso che questo non possiamo permettercelo. La condivisione dipende da un insieme di cose, sicuramente l'autorevolezza del Presidente del Consiglio influisce in maniera determinante, ma poi credo che le forze politiche abbiano capito che c'è bisogno di un salto di qualità, che la pandemia ha determinato un salto di qualità che spinge verso l'assunzione di responsabilità nei confronti della comunità nazionale che non è più la stagione della tattica e della tattica sulla salute dei cittadini italiani. Poi mi piace anche un po' rivendicare il merito ai moderati italiani che hanno sempre avuto, e quindi a Forza Italia, che hanno sempre avuto una linea molto chiara sul Green Pass, sui vaccini, non hanno mai ceduto alle tentazioni no-vax, no-pass e più in generale alle posizioni radicali e ideologiche sui vaccini. E quindi questo è un risultato che mi piace rivendicare anche alla mia parte politica. La decisione che avevo preso in Consiglio dei Ministri, condivisa appunto da tutte le forze politiche, sicuramente pone fine a una stagione di ambiguità che è dannosa, che è profondamente dannosa per la salute dei cittadini e anche per l'economia italiana. Penso che sulla salute e anche sulla ripresa economica, sui posti di lavoro, non ci possa essere alcuna ambiguità. Oggi l'unica arma che noi abbiamo per sconfiggere il virus è rappresentata dai vaccini. Tutte le decisioni che vengono prese in Consiglio dei Ministri si poggiano sul conforto della scienza e quindi sul parere del Comitato Tecnico Scientifico. Penso che in questo campo la disinformazione o l'istinto di solleticare posizioni antiscientifiche non paghi, sia anche una strategia politica sbagliata. Penso intanto che sia importante la logica con cui abbiamo disegnato e realizzato il capitolo Sud all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al Sud andrà il 40% dei fondi del PNRR. Per la prima volta questa quota sarà blindata, è blindata da una norma che è stata approvata, che vincolerà la destinazione di queste risorse alle regioni del Mezzogiorno. E per la prima volta è previsto un sistema molto attento e molto accurato di monitoraggio, ma anche un potere di sostituzione, che potrà esercitare l'Agenzia per la coesione territoriale che è il braccio operativo del Ministero per il Sud nel caso in cui le amministrazioni nazionali, regionali o anche territoriali dovessero essere per qualsiasi ragione inadempienti. Io peraltro ho voluto estendere questo potere di sostituzione in capo all'Agenzia per quello che riguarda la spesa dei fondi strutturali europei, per quello che riguarda le polemiche che ci sono state per l'attribuzione della quota al Sud. L'Europa ha detto sì agli Stati membri, dovete raggiungere come obiettivo quello di colmare il divaro territoriale di genere generazionale. E il governo italiano ha fatto una scelta di concretezza, ha deciso di distanziare al Sud quelle risorse che noi riteniamo davvero il Sud possa impiegare nei prossimi cinque anni. Sono tutte risorse che serviranno per esempio per finanziare l'alta velocità ferroviaria, per finanziare le ferrovie regionali, per finanziare porti, interporti, ma anche le zone economiche speciali, infrastrutture sociali, telemedicina, sanità di prossimità, oppure transizione ecologica e transizione digitale. Quindi fondi che sostengono una visione di Sud che per la prima volta consentirà al nostro Paese di compiere quel percorso di convergenza tra il Nord e il Sud del Paese che vedrà il Sud crescere di più del Nord nel medio e lungo periodo e anche creare più posti di lavoro. Ovvio che serve anche questo. Gli strumenti di controllo e monitoraggio e anche il potere di sostituzione sono tutti strumenti ovviamente potentissimi. In più, per quello che riguarda per esempio i fondi nazionali della coesione, il fondo di sviluppo e coesione, quando vengono utilizzati per i cosiddetti contratti istituzionali di sviluppo e qui in Campania sono in fase di elaborazione tre contratti istituzionali di sviluppo. Quello per il Centro Storico di Napoli, ma anche quello per l'area della Terra dei Fuochi e quello per l'area Pompei e Vesuvio. Quando i fondi di sviluppo e coesione vengono utilizzati attraverso lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo vengono assoggettati, questa è stata una scelta che io ho voluto fare e per la quale ho ottenuto consenso e che ho inserito nell'IL semplificazione e governance, vengono assoggettati alla disciplina del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con tutto quello che questo significa per la semplificazione e per l'accelerazione delle procedure e per l'introduzione di tempi certi per l'attuazione degli investimenti. È chiaro che tutto questo non basta. Noi abbiamo messo dei paletti, abbiamo costruito una cornice per dare certezza ai tempi di realizzazione delle opere, c'è bisogno anche che le forze politiche facciano la loro parte e che naturalmente la classe politica e amministrativa locale abbia le competenze e la volontà politica per realizzare e attuare questo disegno che noi abbiamo programmato a livello nazionale.